A Montesilvano nasce la Carta dei Servizi Turistici, un documento che si ispira al Codice del Turismo, in particolare all'articolo 66 che definisce gli standard dell'offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale. Migliorare ulteriormente la qualità dell'offerta turistica è il principale obiettivo di questa carta che l'amministrazione comunale propone agli operatori del settore e che è stata presentata oggi dal sindaco Francesco Maragno, dall'esperto di marketing e docente universitario Antonio Farchioni e dal vicepresidente di Federalberghi di Pescara Adriano Tocco. Il sindaco Maragno ha detto che Montesilvano punta ad un turismo di qualità, non solo di quantità, visto l'aumento sia dell'offerta che l'incremento delle presenze registrate recentemente nella città adriatica. Il trinomio turismo, cultura e no gastronomia sta dando ottimi risultati, attrae un numero sempre crescente di persone come testimoniano recenti studi. La carta dei servizi diciamo che è la ciliegina sulla torta di quella che è l'offerta turistica della città di Montesilvano. Montesilvano con i suoi 4.500 posti letto ha la più importante ricettività turistica di tutto quanto l'Abruzzo. Nel 2018 abbiamo avuto 570.000 presenze sul nostro territorio con il più 10% di presenze rispetto al 2017. Questo è il frutto di un'attenta politica di programmazione e di investimento, dalla chiusura dei centri di accoglienza straordinaria allo sgombero del ghetto di Via Riosto, oltre che ad esempio al piano di recupero per Montesilvano Colle che ci ha consentito di entrare a far parte della rete dei borghi autentici d'Italia, ma poi la bandiera verde, la bandiera gialla come comune ciclabile e da ultimo, ma non per ordine di importanza, l'Oscar dell'Ecoturismo 2019 per le politiche di inclusione sociale che il comune ha condotto sul territorio. Se a questo aggiungiamo anche la riqualificazione di Mia Maresca e tutte le attività connesse, come ad esempio la chiusura al traffico della riviera d'estate con la creazione di una grande isola pedonale, questo ci consente di offrire al turista tutta una serie di vantaggi.